Buongiorno, signore. Dove sono i vostri genitori? Io lavoro con il mio padrino papà George al chiasco dei giocattoli e di sicuro mi avrete vista qualche volta. E questo è mio cugino che viene dalla campagna, Hugo. Ma dovete perdonarlo. È piuttosto sempliciotto. Uno storto in realtà. Poverino. Sembra che Maximilio non gradisca tanto il tuo aspetto, giovanotto. È disturbato dalla tua fisionomia. È turbato dal tuo viso. Come mai non gli va a genio la tua faccia? Eh? Ecco, forse è per l'odore della mia gatta. Gatta? Sì. Cristina Rossetti l'ho chiamata, come la poetessa. Volete che vi reciti qualcosa? Il mio cuore è come un uccello che cinguetta, il cui nido è in un germoglio bagnato. Il mio cuore è come un albero di mele e i cui ramoscelli sono pieni di dolci. Va bene, va bene. Conosco il resto. Basta con la poesia per oggi. Io amo la poesia. In particolare quel poema di Cristina. Rossetti? Sì, sì, lo so. È una delle mie preferite. Lo so che si chiama Rossetti. Lo so che si chiama Rossetti. Io amo la poesia, solo non alla stazione. Qui si viene o per salire sui treni, o per scenderne, o per lavorare nei diversi negozi. Sono stato chiaro? Sì, signore. Quindi fate attenzione. Ora andate. Andate. Grazie. Grazie. Grazie.